Ilaria Kedrin, concentratissima! La ginnasta della Valle di Mugio che si prepara per il suo Yurchenko con un avvitamento. Body nuovo per lei, tra l'altro. Abbastanza bene. Sì, la parte di volo era buona, l'esecuzione era buona, la rivediamo. Buona la tenuta del corpo, un po' chiusura deficitaria con questo passo avanti, spalle un po' avanti. Abbastanza buono, ecco.